Pirandello, i tuoi personaggi sembrano influencer fuggiti da un manicomio. Il tuo teatro è un vero labirinto di identità. E tu, Dante, con tutti quei gironi infernali volevi fare il geometra al posto dello scrittore? Potresti partecipare al programma Case a prima vista. Almeno nel mio inferno c'è un'organizzazione, mentre nel tuo teatro ogni personaggio ha una crisi d'identità. Ma Dante, nella tua divina commedia, anche i peccatori hanno il loro copione da seguire. Io, invece, celebro il caos dell'incertezza umana. E i tuoi personaggi mutano continuamente. Ma certo, il mio teatro è lo specchio della vita. Mentre tu scruti il paradiso e l'inferno, io esploro l'abisso della mente umana. Hai ragione, Pirandello, la tua confusione è unica. E tu, Dante, sei bloccato in un mondo di penitenza.